Musica Salve a tutti da PR Dark Knight 91 Oggi ci ritroviamo in WWE 2K16 Allora, visto che nelle ultime puntate siamo andati sparati nei match Oggi avremo di nuovo un match contro Finn Balor Vorrei prima di tutto fare il punto di questo campionato Vedendo i vari campioni nei vari campionati E di vedere più o meno come siamo posizionati Per il momento siamo al quarto posto E Finn Balor che fino a pochissimo tempo fa era il campione Adesso è dietro di noi al quinto posto Quindi se lo ribattiamo può perdere ancora tantissime posizioni E' anche incredibile il fatto che giochiamo con la massima difficoltà E abbiamo una potenza totale di 67 A differenza di Finn Balor che è 88 e tutto il resto Gli altri campionati questo lo sta vincendo John Cena per il momento è il campione John Cena nell'Intercontinental Championship Rayback è il campione Nel Tag Team invece c'è Darren Young e Titus O'Neil E nel World Everywhere Championship c'è Seth Rollins Allora poi un'altra cosa che dobbiamo vedere prima di incominciare questo match E che abbiamo punti esperienza da attribuire al nostro wrestler Però direi di aspettare ancora perché abbiamo solo 322 punti esperienza E non facciamo niente con questi punti Al massimo possiamo migliorare l'agilità però io direi di aspettare ancora un po' Non so se è dovuto questa poca esperienza al fatto che giochiamo con la massima difficoltà Oppure è proprio il gioco che cerca di farci ingranare leggermente lentamente Nelle abilità ancora non possiamo acquistare niente Perché anche qui servono i punti esperienza Quindi non so proprio come muovermi ragazzi Sempre nei commenti Se avete un'idea o qualsiasi altra cosa Potete commentare e dirmi No Pierluigi migliora l'abilità invece degli attributi e tutto il resto Mentre il manager siamo con Page Il nostro manager attuale Ancora non si vede Vediamo cosa succederà Questo manager inciterà e aumenterà le possibilità di vittoria del nostro Pier Dark Knight Visto che abbiamo visto tutto Ho modificato anche qualche mossetta Che non mi piaceva Possiamo andare dritti dritti nel match contro Finn Balor E non possiamo ancora interferire negli altri match Tipo l'evento rivale che c'è Sami Zayn contro Baron Corbin Se io schiaccio X qui dice che non posso interferire in questo match Perché sono impegnato in un'altra rivalità Quindi per il momento ancora non possiamo dar fastidio a altri wrestler che hanno un altro match Quindi noi ci buttiamo nel match ancora una volta contro Finn Balor Ecco qui ragazzi siamo arrivati in questo incontro ancora una volta contro Finn Balor Siamo affiancati con Page Siamo con Page che ho visto il volto E' inguardabile E' inguardabile L'hanno fatta malissimo Se non ho visto male Mamma mia Proprio uguale che l'hanno fatta Mamma mia Vabbè Alcuni wrestler sembrano caricature E adesso arriverà Finn Balor Sì Ok eccolo qui Ancora una volta non è mascherato Non so perché Tutto pronto Iniziato sto match Partiamo subito come sempre Con la rincorsa E lo stiamo già prendendo A stampate nette Ok Ok Sì va bene Cioè ragazzi Ma è possibile vedere ancora tutt'oggi Stavo dicendo Non è possibile vedere tutt'oggi Un gioco che ti fa vedere il wrestler Che colpisce a vuoto Però sta colpendo In verità l'avversario Mamma mia Ok Attenzione Finn Balor Prova Ci prova Finn Mamma mia E dai Pierre Forza Non riusciamo a contraattaccare Maledetto Maledetto Niente E' partito fortissimo Finn E' partiti E' partito fortissimo Finn Attenzione Oggi non sono riattivo ragazzi Niente Niente Oggi sto proprio Dai 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 che ce la facciamo Riprendiamoci Ok Come sempre questa bellissima mossa Mi piace tantissimo Io direi di prendere un po' Di Respiro Ok Lo risbattiamo a terra Alzalo Alzalo Eccolo qua Come sempre Sti contraattacchi Maledetti Dobbiamo cercare di fare Più stelle Più mosse varietà Bella 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 Questa Adesso Contraattacca Guarda Eh Non ci posso credere Non ci posso credere Ok Bella Bella questa mossa Saliamo Saliamo Siamo a conteggio Di tre No Ho preso l'arbitro No No Fermo Fermo Lascialo Eh Non mi squalifica No Non mi ha squalificato Vabbè No vabbè Non ci posso credere Ragazzi Involondariamente Ho preso l'arbitro Però non ci ha dato La squalifica Questa è una cosa positiva Attenzione Tocchiamo le corde Meno male Dai Dai Madonna mia Ah Non possiamo Contraattaccare Mannaggia Mannaggia Eh Per il momento Finn È in vantaggio Dai Alzati piedi Eh Vai Si è messo proprio In posizione Ok Bravo Ecco Mannaggia Ragazzi Non riesco Proprio A differenza del match Scorso Contro Finn Abbiamo Giocato Fatto un match Bellissimo Qui sto trovando Difficoltà Anche perché Non mi sento Proprio in forma Io Eh Attenzione Ok No non mi sento In forma Perché sono lento A schiacciare Le mosse Diciamo I contrattacchi Non riesco Proprio oggi Davvero Mi sento Pesante Non riattivo Oh No ci siamo riusciti Ok Lo prendiamo Dai Proviamo A sbatterlo Subito Non ci contraattacca Non riesco a fare Proprio una mossa Dai Dai Ok Belle queste mosse Belle Belle Ottime Dai prendilo Dai si vola Finn Si vola Finn Abbiamo pareggiato Più o meno Siamo lì Di salute Attenzione Prendiamolo A calci Perché lo sposti Prendilo e basta Ok Forza Forza Non contrattaccare Ti prego Ecco Madonna mia No Non mi prendere Da dietro Difficile Questo match È difficile Occhio Niente Attenzione Che siamo alle corte L'ho schiacciato In uno stesso momento Perché mi hai detto Troppo tardi Dai Vabbè Ci ha sbattuto Lì All'angoletto Bene Bene E qui Mossa speciale Vediamo se ci riusciamo Dai dimmi di sì Dimmi di sì Ok Ok Proviamo a chiudere Uno Due Oh Madonna mia Di pochissimo Ragazzi Di pochissimo Alzati Alzati Bene Bene così Vediamo se riusciamo a fare Mossa finale caricata Dai Mannaggia Ok Lo prendiamo a cazzottate Dai Ok Sbattilo 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 Sì Sì Così Mossa finale caricata Dai Io clicco Non esce più Oh Guardate Cacchio Devo stare per forza lì Se no Ok Vediamo Controattacca Maledetto Ah Peccato qui Troppo presto Tre stelle Mossa varietà Attenzione che prova a chiudere Abbiamo toccato le corde Meno male Dai Perché è troppo presto No di nuovo quella mossa No ti ammazzo Ok Benissimo Benissimo Per il momento siamo Un leggero vantaggio Contro Finn Ok Lo stiamo prendendo a cazzotti Neanche fosse un incontro di box Bene così Abbiamo un'altra mossa Vediamo Eccola qui Mossa finale caricata Vediamo se questa volta ci riusciamo ragazzi Se ci riusciamo poi andremo allo schieramento Vediamo Sì ci siamo riusciti Eh ma mi sa che tocca le corde Mi sa che tocca le corde Proviamo Uno Due Mamma mia Mamma mia Tre stelle e mezzo Mossa varietà Bene Più ne facciamo Più abbiamo esperienza Più migliorerà Il nostro wrestler Attenzione Questa è un'altra botta Io direi di prendere un po' di respiro Perché abbiamo pochissima stamina Eccolo lì Ok Lo riprendiamo a cazzotti Adesso lo al Uh bene Bene così Vediamo se Eh mi sa che è andato Proviamo Botta al ginocchio Vediamo se riusciamo Ecco Ci contraattacca Cioè se io faccio le prese Mi contraattacca sicuro Mannaggia Attenzione Ecco Mannaggia Ma capovolge Capovolge il match Già lo so Già lo so Occhio Eh di nuovo là le corde Poi lui si sistema Per farsi colpire Cioè non lo so Forza Attenzione Dai Non vuole saltare Attenzione Page fa qualcosa Mannaggia Mi ha distra... Attenzione Prova a chiudere Uno E ci siamo riusciti Dai Dai alzati Pierre Annaggia Annaggia ragazzi Sì questo ci batte Ci batte proprio alla fine Questo ci batte proprio alla fine Adesso rischiera Te lo dico io Dai dai Alzati Pierre Alzati Pierre Dai colpisci Mannaggia Ci butta... No 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 Ok No vabbè ragazzi Ok Attenzione a Pierre Ottimo Vediamo di finirlo Vediamo di finirlo ragazzi Ancora non è il momento di schierare Secondo me E adesso è il momento Proviamoci Forza arbitro Ti muovi Si si è spostato a carrello Per toccare le corde Dai vabbè Non ci arrivava da lì Mannaggia Adesso controattacca Ok Riusciamo comunque Ad uscire E lo risbattiamo lì alle corde Io direi di prendere un po' di energia Siamo proprio a corto Mentre Finn Ne ha molta di più Attenzione Ok Pierre Dice Come on Alzati Attenzione a Finn Che prova ad alzarsi Pierre lo prende E adesso lo sbatterà ancora al tappeto Sta facendo il match Cerca di caricarsi Adesso Mossa finale ragazzi Mossa finale Vediamo cosa succede Che sta facendo Lo struzzo Attenzione Oh bene Oh bene Adesso ritocca le corde Se non sbaglio Attenzione Uno Due Tre Oh ragazzi Vinciamo ancora una volta Contro Finn Balor Che adesso scenderà Ancora di più In classifica E noi vediamo Se saliamo Andiamo a vedere Ok Questo match E' andato Davvero divinamente Ed ecco Page Che esulta Con Pierre Ok Non so se cambierò poi manager Quando andremo avanti Ma mi fa comodo Una figura femminile Ok Cambio relazione Perché Perché Ragazzi io questa non l'ho capita Perché Fra Page E Pierre Dark Knight Adesso Non scorre Buon sangue Non ho capito Cosa E' successo Per chi lo sa ragazzi Scrivetelo nei commenti Perché davvero Non riesco a capire Il motivo Ed eccoci qui Saliti di posizione Finn Balor Al quinto posto Noi siamo al terzo Fra pochissimo Possiamo avvicinarci Davvero Ad essere campioni Della Nexty Quindi ragazzi Io penso che Per questa puntata Di WWE 2K16 E' tutto Prossimo match Che andremo a fare E contro Fandango Per l'evento Superstar Quindi ragazzi Non perdetevi Il prossimo episodio Per rimanere Aggiornati Andate sempre Nelle info Del canale Li troverete Il programma video Settimanale Di tutti i giochi Che porto Se porto due Videogiochi al giorno Se ne porto uno E tutto il resto Quindi ragazzi Se il video vi è piaciuto Mettete un bel like Condividete e commentate Ciao a tutti Da PierreDarkKnight91